Buongiorno a tutti, benvenuti alla meeting e alla cerimonia di permeazione del Masters of Volleyball International Contest di Monte Carlo 2023. Grazie a tutti per essere qui anzitutto. Questa mattina avremo quattro interventi ma prima di iniziare vorrei fare un grande ringraziamento a chi ci ha dato una mano per rendere possibile questo evento. In particolare questo evento è stato possibile grazie all'aiuto e all'impegno di un piccolo gruppo di persone e al supporto di alcuni sponsor e di alcuni enti con cui abbiamo stretto dei rapporti di collaborazione. Anzitutto voglio ringraziare Marco Gandolfi che già da alcuni anni con sua moglie Laura Moscatelli ci danno una mano nell'organizzazione perché dietro un evento del genere c'è una quantità di lavoro inimmaginabile veramente e mia moglie Carmen. Poi adesso vediamo quelli che sono gli sponsor che ci hanno dato una mano, gli sponsor che ci hanno dato una mano che già da tempo ci sostengono, l'azienda Moritem che è uno dei più importanti produttori di frantoi oleari che abbiamo in Italia, l'azienda Clemente Industri dalla Puglia che di nuovo è un'azienda molto importante che produce frantoi di altissima qualità in joint venture con l'Alfa Laval e poi quest'anno abbiamo avuto l'aiuto dalla fondazione Carige, nonostante la banca Carige sia stata recentemente assorbita dal gruppo Biper, la fondazione continua ad esistere come ente a sé stante. Gli è piaciuto il progetto e quindi da quest'anno hanno deciso di aiutarci come sponsor. Dopo abbiamo alcune collaborazioni importanti che sono molto utili per far sì che il nostro evento nonostante questa sia la settima edizione ed è comunque un evento che ormai si è legittimato a livello internazionale e conosciuto ma fate conto che noi abbiamo una mailing list di oltre 5.000 aziende planetarie e io ho visto che le mail che mandiamo vengono aperte al 15% quindi tantissime aziende non sanno ancora che esistiamo e stringere collaborazioni con questo tipo di enti ci aiuta a rendere noto ai produttori nelle varie aree sia italiane che all'estero che esistiamo anche noi insieme agli altri decine di concorsi che ci sono in giro per il mondo in modo che i produttori come avete fatto voi decidano se partecipare anche a questo concorso. Quindi abbiamo una collaborazione con l'associazione dei comuni bandiera arancione sono 370 comuni in giro per l'Italia il presidente che forse oggi pomeriggio riuscirà a venire è l'ingegnere Fulvio Gazzola che fin da quando ci siamo conosciuti tre anni fa ha sposato il progetto gli è piaciuto e ha detto vi do una mano a rendere noto ai produttori di questi 370 comuni che esiste il concorso. Poi è anche presidente dell'associazione dei siti storici Grimaldi di Monaco è di nuovo un'associazione di comuni che sono sia in Italia che all'estero non sono tantissimi ma sono comunque importanti e anche in questo caso ci ha aiutato a rendere noto alle aziende del territorio che esistiamo in modo che possano decidere se partecipare oppure no. Abbiamo il patrocinio del comune di Monaco che è molto importante per noi. Abbiamo stretto un accordo col consorzio di produzione IGP Toscano che ha circa 800 soci e divulga due volte l'anno la mail alla loro mailing list l'esistenza del concorso. Abbiamo anche quest'anno per la prima volta stipulato un accordo con la Sopro Libari per divulgare presso i produttori soci dell'Asopro Libari che è la più grande OP d'Italia facendo anche con loro un accordo con una convenzione a prezzo diciamo ridotto per l'iscrizione da parte delle aziende dell'Asopro Libari. L'abbiamo fatta anche con l'Asoprol Basilicata e più abbiamo un accordo in collaborazione con il nuovo hotel che ci ha fatto sicuramente ci ospita da tre anni e vi ha fatto un'offerta diciamo molto vantaggiosa credo sui prezzi delle camere eccetera e con l'associazione CROI di cui purtroppo quest'anno non ha potuto avvenire per problemi di non perfetta salute la dottoressa Alissa Mattei che con cui collaboriamo da alcuni anni per diciamo l'organizzazione soprattutto della parte degli assaggi di questa manifestazione. Andiamo avanti. Qualcuno prima mi ha chiesto possiamo sapere quali sono le nazioni ora qua ci sono le bandiere delle 20 nazioni che sono in gara poi pubblicheremo tutto sul sito dalla settimana prossima quindi per chi vuole sapere esattamente quali sono le nazioni in gara avremo una pagina sul sito con tutte le bottiglie e i nomi dei produttori come abbiamo sempre fatto. Se voi andate sul sito potete vedere i vincitori dal 2016 a oggi sono ancora pubblicati per cui restano lì finché ci sarà il sito. Andiamo pure avanti. Allora adesso vi presento i quattro relatori di oggi. Abbiamo prima di tutto la dottoressa Greta Rondi che è da Milano dalla Università Yulm è venuta e ci parlerà di neuromarketing applicato al mondo del food e dell'olio. È laureata in psicologia con un master in neuromarketing e collabora appunto con l'università della Yulm. Poi avremo lo chef Piero Nagari da Monte Carlo, uno chef che si è formato alla scuola di Gualtiero Marchesi e ha lavorato negli Stati Uniti e in Giappone e poi si è stabilito qua a Monte Carlo da svariati anni e ci parlerà di olio in cucina. Poi avremo il dottor Pino Cipolla che purtroppo è dovuto andare urgentemente in Kenya ma è stato così gentile da mandarci un video di una quindicina di minuti quindi abbiamo il video registrato da Pino, è stato veramente gentile a farci questa cosa. Parlerà di olio e mercati e poi in ultimo avremo il carissimo amico, un grandissimo esperto di assaggio e di produzione Luca Mencaglia che è già qua in sala che ci parlerà un po' su come intervenire per creare grandi oli in frantoio e poi anche in deposito e nel blending. Ti lascio il palco e alla tua presentazione. Buongiorno a tutti, è innanzitutto un piacere essere qui. Io sono appunto, come mi ha introdotto Aldo, una consulente di neuromarketing al Behavior and Brain Lab che è appunto un centro di ricerca in neuromarketing e consumer neuroscience. Intanto vi spiego un attimo che cos'è il Behavior and Brain Lab così iniziamo a sciogliere un pochino il ghiaccio e presentarvi anche il posto in cui lavoro. È un centro di ricerca appunto che mette insieme due anime. La parte un pochino più accademica, ci occupiamo infatti di pubblicazioni scientifiche in ambito di neuromarketing e consumer neuroscience e abbiamo anche invece una parte un pochino più consulenziale, quindi di rapporto con le aziende. Ok, quindi parte accademica e parte consulenziale. Cerchiamo di coprire diversi aspetti, vari ambiti che possono interessare sul mercato. Ci occupiamo di store e retail, abbiamo recentemente aperto un nostro laboratorio di neuro retail. Ci occupiamo dell'ambito digital, quindi facciamo analisi di siti web, app, piattaforme di vario tipo e anche social networks. Ci occupiamo di advertising, lavoriamo molto con l'analisi di spot pubblicitari oppure anche di out of home e ovviamente ci interessa moltissimo anche tutta la parte esperienziale nell'ambito food and beverage e tasting in generale. Ok, possiamo andare avanti. Noi siamo inseriti all'interno del contesto della Yulm, che è l'Università di Lingua e Comunicazione di Milano. Il nostro laboratorio è stato fondato nel 2009 come laboratorio di ricerca in consumer behavior e negli anni poi si è evoluto diventando un punto di riferimento per il neuromarketing e consumer neuroscience in Italia. Andiamo avanti. Quando mi è stato chiesto di venire a parlare qui oggi, io ho provato da completa inesperta a formi questa domanda. Quali elementi rendono un olio buono? Che è una domanda che immagino si pongano tutti i consumatori nel momento in cui devono acquistare questo prodotto e anche i produttori per cercare di migliorare il proprio prodotto. In realtà quello che effettivamente emerge è che non ci sono soltanto elementi che caratterizzano il prodotto di per sé, quindi immagino possa essere la qualità dell'oliva, il tipo di terreno, come viene lavorato, come viene conservato, eccetera. Quindi tutte proprietà intrinseche del prodotto stesso, ma appunto non è soltanto una questione di gusto, ci sono anche tutta una serie di altri elementi che vanno ad influenzare non soltanto quella che è la nostra decisione, il nostro processo di acquisto, ma quella che è proprio la percezione del gusto stesso del prodotto. Quindi quello di cui voglio parlarvi veramente oggi è di come tutta una serie di elementi, possiamo anche andare avanti con la slide, come il brand, il prezzo, l'etichetta, la bottiglia, il contesto, in realtà hanno una grossa influenza, come saprete, non soltanto proprio sull'influenza, sul momento di acquisto del prodotto, ma anche su quello che è il gusto proprio intrinseco percepito. Ok, possiamo andare avanti? Per esempio, nell'ambito del brand, ovviamente noi siamo fortemente influenzati dalla presenza dei brand, questa ovviamente non è una sorpresa, ma perché siamo influenzati dal brand? Perché i brand non sono soltanto un nome, un'immagine, un logo? Noi creiamo un legame psicologico con il brand, cerchiamo di identificarci in quello che è il brand che ci piace o cerchiamo nel brand qualcosa a cui aspiriamo. E quindi creiamo questo senso di fiducia, di fedeltà, di familiarità con un brand. E quindi ovvio che poi questo ci va a influenzare nel momento in cui dobbiamo scegliere che tipo di prodotto acquistare. E questo è stato visto non soltanto a livello comportamentale, anche con uno studio di neuroscienze che è in realtà il primo studio di neuromarketing importante che è stato fatto da Montega e colleghi nel 2004, in cui hanno proprio confrontato quella che era la percezione del consumatore quando dovevano assaggiare Pepsi o Coca-Cola in blind tasting, quindi senza sapere che cosa stessero assaggiando o quando invece erano consapevoli di quale brand stessero assaggiando. E si è visto che effettivamente i risultati sono opposti, mentre magari da un punto di vista razionale dichiarano di preferire Pepsi, da un punto di vista invece più irrazionale quindi anche di attivazione neurale, quando non sanno che cosa stanno assaggiando la percezione cambia e preferiscono Coca-Cola. Possiamo andare avanti? Anche il prezzo ovviamente ha un'influenza fortissima, anche qui nessuna sorpresa. Ovviamente quando noi dobbiamo decidere se acquistare o meno un prodotto ci facciamo coinvolgere, ci facciamo influenzare da quello che è la nostra disponibilità a pagare per un certo prodotto anche da come ci sembra esteriormente. La cosa particolare è che è stato dimostrato, sempre con le neuroscienze, che un aumento del prezzo del vino non soltanto genera un aumento delle aspettative, come è normale, mi aspetto che un vino più costoso sia anche più buono, ma questo porta anche a un cambiamento di attivazione nel nostro cervello. Nel dettaglio possiamo andare avanti. In questo studio, non so se riuscite a vedere fino alla fine della slide, gli sperimentatori hanno proposto ai partecipanti cinque assaggi di vino, in realtà proponendogli come cinque vini diversi. In realtà i vini erano soltanto tre, i primi due venivano presentati due volte, una volta con un prezzo più basso e una volta con un prezzo più alto. E i risultati dello studio, possiamo andare avanti, hanno dimostrato che effettivamente assaggiando lo stesso vino, ma con due etichette diverse, quando veniva presentato con l'etichetta più costosa, non soltanto a livello razionale il giudizio migliorava, quindi il vino veniva percepito come più buono, piaceva di più, ma anche a livello di attivazione neurale si attivava questa area che si chiama corteccia orbitoprontale, che è stato dimostrato che codifica per la experience pleasantness, cioè la piacevolezza percepita. Quindi un aumento nel prezzo aumenta le aspettative e soltanto le aspettative sono in grado di cambiare la nostra attivazione neurale. Il prodotto era lo stesso, il vino che assaggiava non era lo stesso, cambiava soltanto la scritta sull'etichetta relativa al prezzo. Anche l'etichetta ovviamente di per sé ha il suo impatto, ci sono tutta una serie di elementi, c'è tutto un mondo dietro a quello che è l'etichetta che va a influenzare quella che è la percezione del prodotto. Ci sono le immagini, le informazioni, la disposizione dei vari elementi, i colori. Anche qui nessuna novità, lo saprete benissimo, volevo quindi farvi porre la vostra attenzione su questa immagine che è uno degli output che noi possiamo estrarre dalle nostre analisi. Questa viene effettuata tramite un eye tracker che sarebbe uno strumento che serve per rilevare i movimenti oculari. Quindi noi riusciamo a rilevare le diverse posizioni dell'occhio durante l'esplorazione dei diversi stimoli e alla fine generiamo questa mappa di calore dove si possono vedere le macchie rosse che sono i punti in cui l'attenzione si è focalizzata maggiormente, passando poi al giallo e al verde che sono invece i punti in cui sono stati osservati un po' di meno. E questo è molto importante perché ci dà un feedback essenziale per capire quali possono essere gli elementi che funzionano o non funzionano all'interno di uno stimolo come può essere per esempio un'etichetta di vino o di olio o qualsiasi altro elemento e è fondamentale soprattutto in un ambito come per esempio quello della GDO in cui è fondamentale sapere anche all'interno di uno scaffale per esempio se la nostra bottiglia verrà vista, che probabilità di essere vista o che cosa posso fare io per migliorare la visibilità della mia bottiglia all'interno dello scaffale. La bottiglia è altro elemento essenziale con tutte le varie declinazioni di forma, dimensione, colore, chiusura, tipo di tappo e peso. Il peso per esempio della bottiglia ha una grande influenza, un grande impatto. Ci sono studi che dimostrano che se io utilizzo una bottiglia più pesante il prezzo percepito del prodotto aumenta e come abbiamo visto quindi anche un pochino la qualità percepita aumenta. Questo ovviamente non è una regola universale, ci sono tutta una serie di altri elementi contestuali che influenzano quindi non sto dicendo necessariamente bisogna utilizzare bottiglie pesanti perché fanno migliorare la percezione di qualità del prodotto, non necessariamente, però può essere un elemento che influisce. Ok, e infine ci sono tutti gli altri elementi contestuali di stimolazione che proviene dai nostri sensi che ci va a influenzare nel processo di acquisto e nella percezione stessa del prodotto. Questo termine, neuro-gastrofisica, è stato coniato da Charles Pence che è uno dei massimi studiosi in questo ambito e neuro-gastrofisica sostanzialmente è un nuovo modo di pensare alla nostra esperienza del cibo e delle bevande. Cioè consiste nel considerare anche tutti quelli che sono gli elementi di contesto che niente hanno a che fare con il prodotto di per sé, quindi per esempio le luci, i colori, i suoni, anche le esperienze tattili che si fanno nel momento per esempio della degustazione o appena prima, che appunto non sono qualità intrinseche del prodotto ma che hanno una forte influenza sulla nostra percezione. Per esempio c'è una forte relazione tra gusto e vista e vi ho portato questo studio che lo fa vedere bene. In questo studio hanno dimostrato che semplicemente aggiungendo una piccola percentuale di colore giallo alla lattina verde di 7up al limone riuscivano a cambiare la percezione del consumatore perché il gusto della lattina un po' più gialla veniva percepito più limonoso, quindi aspetto esterno della lattina, colore esterno della lattina fa percepire lo stesso prodotto in modo diverso. Altro studio sempre sulla relazione tra gusto e vista, anche il tipo di piatto che noi utilizziamo è in grado di influenzare la nostra percezione del gusto. Una mousse alla fragola servita su un piatto bianco o su un piatto nero è in grado di cambiare la nostra percezione. Sul piatto bianco la mousse viene percepita con un gusto più intenso, come più dolce e viene apprezzata di più. Non c'è invece differenza significativa per quanto riguarda la qualità. c'è anche una relazione tra gusto e tatto. Ovviamente tutto questo accade perché quando noi non abbiamo sufficienti elementi significativi per poter dare un'interpretazione a quello che stiamo assaggiando, per esempio in questo contesto, a quello che stiamo vedendo, ci basiamo su tutte le informazioni possibili che abbiamo a disposizione e questo è particolarmente vero nel caso dell'olio, nel caso del vino, in cui i consumatori per esempio non sono esperti e non si può assaggiare il prodotto prima di acquistarlo. Quindi ci basiamo su tutte queste caratteristiche esterne in modo completamente irrazionale perché ovviamente sono tutti elementi esterni che nulla hanno a che fare con il prodotto, come sto già ripetendo più volte, che vanno a avere un impatto. Anche il tatto appunto influisce. È stato visto che quando si utilizza per esempio un packaging che sia più difficile da aprire, noi automaticamente facciamo questa associazione tale per cui pensiamo che il prodotto all'interno venga conservato meglio e quindi le patatine in questo caso sono state percepite come più fresche e più croccanti rispetto a quando invece veniva utilizzato un pacchetto un po' più morbido, un po' più facile da aprire. Andiamo avanti, c'è anche l'influenza del suono. È stato dimostrato che ascoltando dei suoni ad alta frequenza mentre si mangiano ancora delle patatine, in realtà queste vengono percepite come più fresche e più croccanti. Questa era un pochino una panoramica di quelli che sono appunto qualche studio abbastanza noto sull'influenza di tutta la nostra, quella che è la nostra percezione su quello che è il gusto poi effettivo del prodotto. E questo succede perché? Perché c'è una differenza tra sensazione e percezione. La sensazione è un processo biologico che è quello che ci permette di recepire gli stimoli esterni tramite i nostri recettori sensoriali ma poi queste informazioni arrivano al cervello e vengono elaborate. Quella diventa la nostra percezione. Quindi noi facciamo un'integrazione di tutte le informazioni che riceviamo dai nostri sensi ed è un'elaborazione. Quindi non è diciamo lo stimolo grezzo esterno ma è tutta una rielaborazione che noi facciamo anche in base per esempio alle nostre esperienze passate. Un altro motivo per cui succede questa diciamo influenza reciproca nei nostri sensi è che tutte queste informazioni sensoriali arrivano al talamo, un centro all'interno del nostro cervello dove appunto tutte queste informazioni confluiscono per poi andare alla corteccia. Quindi è sostanzialmente impossibile che non ci sia una commissione tra tutti questi segnali sensoriali. È normale che questi vadano a fondersi un pochino. ok? E infine arriviamo un pochino al sodo. Abbiamo visto quindi che sono tutti elementi che in realtà non sono propriamente razionali cioè di per sé perché noi dovremmo il nostro gusto, il gusto del prodotto dovrebbe essere influenzato da questi fattori che non c'entrano niente. Beh perché noi ci facciamo influenzare, siamo esseri irrazionali, non siamo così razionali come ci piacerebbe pensare e il vecchio modello razionalista in base al quale noi pensiamo, in base al pensiero agiamo e poi proviamo dei sentimenti, delle emozioni, in realtà va ribaltato. Noi prima proviamo un'emozione, proviamo dei sentimenti, agiamo in base a quello che stiamo provando e poi facciamo una razionalizzazione per autospiegarci il nostro comportamento basato su quello che abbiamo sentito. Ovviamente non vale sempre, siamo anche esseri razionali, riusciamo a fare dei ragionamenti razionali ma soprattutto quando si parla di processi di acquisto siamo molto molto emotivi e quindi se tutta questa emotività è compresa non possiamo basarci solamente su dei metodi tradizionali come interviste o focus group che vanno a chiedere direttamente al consumatore quale è stata la sua esperienza, la sua percezione, ma dobbiamo anche andare ad esplorare la parte appunto più inconsapevole, più emotiva dell'esperienza e come facciamo con le neuroscienze e il neuromarketing. Noi abbiamo degli strumenti che ci permettono appunto di andare a approfondire tutta la parte emotiva. Il neuromarketing appunto mette insieme tutte queste discipline e ci permette di indagare le emozioni. Non c'è una vera e propria definizione universale di emozioni ma si possono definire come delle risposte a degli stimoli esterni o interni che generano tutta una serie di modificazioni all'interno del nostro corpo. Sono in grado di modificare i nostri processi cognitivi. Facciamo partire il video. Noi possiamo registrare questi processi cognitivi tramite leggi. Questo è quello che noi utilizziamo in laboratorio e che ci permette di andare a rilevare il segnale cerebrale durante la visione di alcuni stimoli. Dall'analisi poi del dato grezzo noi riusciamo a ricavare tutta una serie di indicatori che ci danno delle informazioni essenziali su alcuni processi cognitivi come per esempio di memoria, attenzione, carico cognitivo o soprattutto anche di engagement, cioè di approccio o allontanamento nei confronti di uno stimolo. Quello che genera è lo stimolo è capace di generare. Altra modifica che le emozioni generano sono variazioni fisiologiche. Quando noi siamo arrabbiati, spaventati, insomma ci attiviamo, il nostro battito cardiaco cambia, accelera, la nostra sudorazione, microsudorazione aumenta. Riusciamo a rilevare appunto le micro variazioni della pelle, esatto, tramite questi sensori e le variazioni del battito cardiaco che ci danno un'indicazione sul livello di attivazione tramite questi anellini sulla conduttanza cutanea che è il segnale che vedete qua sopra e anche del battito cardiaco che invece ci dà un'indicazione sulla valenza dell'emozione. Quindi se stiamo provando più qualcosa che va sul versante positivo o negativo e poi noi siamo in grado di integrare questo dato per creare una sorta di asse cartesiano dove possiamo vedere come si posizionano i diversi stimoli. Abbiamo anche altri strumenti, risposte comportamentali visibili, l'eye tracker che è quello che vi ho anticipato prima e poi appunto serve per rilevare i movimenti oculari. Noi ne abbiamo di due tipologie. La prima che avete visto era per delle indagini in field, quindi abbiamo questo occhialino mobile che ci permette di esplorare l'ambiente e il secondo invece è a schermo, quindi il laboratorio fisso è una barra posizionata sul computer e da qui noi appunto possiamo vedere lo scampat, cioè proprio il pattern visivo, il percorso che ha fatto la persona e questa che è la heatmap, l'output finale. Ovviamente poi abbiamo anche delle metriche quantitative. E infine possiamo rilevare anche delle espressioni facciali tramite dei software apposta che rilevano i micromovimenti dei muscoli del volto e quindi riescono a identificare le diverse tipologie di emozione. Possiamo anche andare avanti. Ok e infine ovviamente non si screditano mai anche i vecchi strumenti per cui utilizziamo anche questionari, self report e interviste in profondità perché siamo molto curiosi e vogliamo anche avere un confronto tra quello che è il dato razionale che misuriamo appunto con questi metodi più classici e invece quello che è l'aspetto più irrazionale che abbiamo misurato con gli altri strumenti. Vi ho portato anche una piccola case study per farvi vedere un attimo nel concreto quelle che sono i nostri output, che cosa possiamo estrapolare da un'indagine. Questo per esempio è uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa per un produttore di olio che voleva testare quattro diverse opzioni di etichetta. Questo è l'output dell'E-Tracker, l'E-Tmap, è un output qualitativo quindi ci permette soltanto di visualizzare un attimo come è distribuita l'attenzione all'interno dello stimolo e da un'analisi così veloce senza annoiarvi troppo vi faccio notare che per esempio nelle prime due etichette non c'è un'esplorazione completa, soprattutto della parte finale dove c'è la fine della descrizione in un caso e la denominazione origine di un'europea nell'altro, elementi che possono essere importanti ma che non vengono visualizzati. Le altre due invece presentano un'esplorazione più completa di tutti gli elementi che riguardano l'etichetta quindi sembrano performare un pochino meglio. Questo, vabbè possiamo andare avanti, queste invece sono le metriche quantitative, quindi non soltanto un output visivo di interpretazione qualitativa ma un dato numerico su quello che è per esempio il tempo di fissazione che le persone hanno speso su tutti i diversi elementi che noi andiamo a identificare che si chiamano aree di interesse, quali elementi effettivamente vengono visti e da quante persone, l'ordine di visualizzazione dei diversi elementi e quante volte per esempio uno stesso elemento viene visto più volte, i revisits. Qui per esempio questa era la terza etichetta che era una delle ultime due che performava bene a livello appunto di heatmap, avevamo visto e si vede che effettivamente anche a livello di ordine di visualizzazione, non so se riuscite a vedere i numerini in verde, ha un pattern di visualizzazione ordinato, quindi si parte dal brand, dal logo in alto, si passa a olio extravergine di oliva, poi alla descrizione e tutti gli altri elementi in una visualizzazione verticale ben ordinata che quindi favorisce la visualizzazione di tutti gli elementi. Invece se guardiamo quest'ultima si vede che era sempre una di quelle che performava bene, cioè aveva tutti gli elementi che venivano visualizzati a livello qualitativo, a livello però di ordine di visualizzazione si vede che è un pochino più disordinato, si parte dal centro perché c'è la scritta olio extravergine che ha un colore più acceso e cattura subito l'attenzione, poi si passa in alto, poi si torna in basso alla descrizione, si scende sotto, poi si torna sopra, è un pochino più disordinato, quindi così a primo impatto sembrerebbe che effettivamente quella di prima, la terza etichetta che abbiamo visto, sia quella un pochino più performante. Andiamo a vedere anche quello che è il dato dell'elettroencefalografia e si vede che effettivamente quando si va a valutare l'engagement, l'approccio o l'allontanamento che i diversi stimoli sono in grado di generare, è sempre la terza etichetta quella che ottiene il risultato migliore, quindi che riesce a generare un buon engagement, sembra piacere. Anche a livello fisiologico vediamo che la terza etichetta è la più performante perché riesce a generare una buona attivazione fisiologica, una buona attivazione emotiva e quello che vi dicevo prima, noi poi andiamo a mettere insieme questi due dati creando un asse cartesiano in cui sull'asse orizzontale abbiamo la valenza, quindi andiamo da emozioni negative a emozioni positive, mentre invece sull'asse verticale abbiamo l'attivazione, l'arousal, quindi si va da bassa attivazione ad alta attivazione. Si vanno a creare questi quattro quadranti, il più performante è questo, in alto a destra, perché ovviamente siamo nel quadrante con una valenza positiva e una buona attivazione, quindi uno stimolo che dovrebbe essere coinvolgente, attivante, ma in modo positivo ed effettivamente vediamo che la nostra etichetta si posiziona in questo quadrante, quindi diciamo se come in questo caso ci troviamo a dover dare un parere su quella che potrebbe essere l'etichetta migliore, l'opzione migliore, perché può avere maggiore probabilità di essere vista sul mercato, perché coinvolge di più a livello emotivo, eccetera, possiamo appunto suggerire la terza etichetta o comunque visualizzare quali sono gli elementi che funzionano o non funzionano, delle varie etichette e dare dei consigli per implementare lo stimolo che si va a scegliere. Io ho concluso e vi ringrazio ancora di essere qui. Se ci sono domande... Appunto, volevo chiederti se ti faceva piacere... Sì, sì, certo. Se ci fosse qualche domanda, qualche minuto per fare qualche domanda, per volentieri... Arousal... Arousal... Corsetta... Oppure sono seduta, da seduta ho un arousal piatto, dopo la corsetta si alza. È proprio attivazione fisiologica, che però non è soltanto fisica, ma è proprio emotiva, può essere generata anche dalla visione di immagini. Il cervello rettile, proprio dal tuo cervello? Il cervello... Allora, diciamo che questa denominazione non è più utilizzata molto, esatto, però fa riferimento a quella che è la parte un po' più antica, un po' più istintuale del cervello, fa riferimento al sistema limbico, che era in realtà la parte attorno a quello che vi ho mostrato io al talamo, dove vengono elaborati tutti i processi emotivi e ci sono anche le parti, diciamo, relative alla memoria, con l'amigdala, quindi è tutto molto interconnesso, per questo siamo anche esseri razionali, perché c'è una forte commissione tra sensi, memoria, emozioni, che guidano molto il nostro comportamento. E forse insieme a memoria, emozioni, ma anche quello che assorbiamo noi o anche quello che abbiamo già... Assolutamente, le nostre esperienze pregresse hanno una fortissima influenza, è quello che dicevo anche prima, noi facciamo un processo interpretativo di qualsiasi stimolo che ci circondi nuovo in base a tutto quello che abbiamo visto prima, assolutamente, sì sì sì, è solo che tante volte non ne siamo consapevoli, a livello conscio, magari io non mi ricordo di essere stata in un posto, di aver sentito un profumo o qualche cosa, a livello inconsapevole magari se io poi rincontro questo profumo si genera qualche cosa, cioè c'è sempre questa relazione. Sì, sì sì sì, e a volte non ne abbiamo pienamente accesso, consapevole, però c'è. Prego. Adesso chiamerei Pietro Nagari, ci racconti qualcosa? Comincio a dire che io non sono ai livelli della dottoressa, non ho università alle spalle e cerco di dire qualcosa. Allora ringrazio Mazzini per questo intervento inaspettato, è durato una settimana fa, mi ha chiesto di salire questi due gradini così e cerco di onorare questa mia presenza qui. Allora, come Mazzini hai già annunciato, sono uno chef che ho ufficiato un po' in giro per il mondo. Va bene? Un po' più su. Ok. E dopo mi sono trovato una sistemazione che è monaco e che tra l'altro non si sta proprio male. Allora, sono nativo della Lomellina e dove non esiste ombra di olivo e dove tra l'altro facendo le analisi ho scoperto di essere addirittura allergico al polline di olivo, dunque per dire che sono proprio di un altro contesto, di un altro mondo. Allora, Mazzini mi ha invitato per raccontare la mia esperienza da un punto di vista pratico dell'olio di oliva in cucina. Allora, mi rendo sempre più conto che c'è poca conoscenza di questa materia e che noi tutti dovremmo divulgare, soprattutto voi che siete del mestiere, dovreste divulgare ai vostri consumatori, ai vostri compratori, ai vostri chef, a quelli che avete sotto mano, gentilmente, gentilmente, divulgare gentilmente, sempre gentilmente si fanno le cose, quei piccoli ma importanti aspetti fondamentali di questo prodotto, per farlo apprezzare come merita ed avere quindi migliori opportunità commerciali poi di vendita, chiaramente. Anzitutto bisognerebbe sfatare il mito che l'olio di oliva in cucina non si possa usare sempre e per tutte le preparazioni. A prima parere si può usare addirittura per fare i dolci, per fare i biscotti, per fare tantissime cose l'olio. Dunque c'è una, poi non parliamo di oli idrogenati, che questa è un'altra storia, ma rimaniamo sull'olio tradizionale da cucina. Chi cucina deve sapere che l'olio extravergine può essere usato pressoché in tutti i processi di preparazione e cottura, con grandissimi risultati. Faccio l'esempio della cottura. Non c'è dubbio che le cotture con olio d'oliva totalmente hanno un altro gusto, sono incomparabili con quelle degli oli vegetali. Potrete, per esempio, preparare una caponata con del buon olio di oliva extravergine, le differenze saranno sostanziali ed evidenti. Oppure potremmo parlare delle rosolature, rosolare verdure, carne e pesce con l'extravergine, da risultati completamente diversi. I colori della carne risulteranno diversi, come del resto tutti gli altri colori. E la scottatura che sarà completamente diversa, è proprio un ribaltamento del metodo di cottura. Anche le nostre papille gustative immediatamente sentiranno la differenza dei vari gusti ed aromi, incominciando dalle parti liquide, che avendo un concentrato di succhi dalla cottura, saranno subito percepiti ed apprezzati dal nostro palato. Al contrario, immaginate una cottura ad alta temperatura fatta con dell'olio scadente, una catastrofe culinaria. Voglio soffermarmi anche sulla cottura sottovuoto, utilissima per coloro che non possono o non devono mangiare fritti. Per esempio, consideriamo di prendere un buon filetto di pesce, lo saliamo, lo pepiamo e volendo possiamo aggiungere a piacimento delle spezie. Io mi fermerò al timo in questo caso, perché poi possiamo mettere curry, zenzero e tantissime altre cose. E aggiungiamo a tutto questo un cucchiaio, due cucchiai d'olio e mettiamo tutto sottovuoto. Se vogliamo possiamo cuocerlo subito, ma se aspettiamo tipo 24 ore, 12 ore, l'olio e tutti gli altri elementi, cioè il sale marina il pesce, il pepe dà gusto al pesce e l'olio prende tutti gli altri elementi, cioè si mischia al timo, dunque c'è un'aromatizzazione naturale che viene fatta, ma con qualche ora di tempo succede questo. E poi si può cuocere o in acqua o in forno a vapore, senza superare i 100 gradi, così l'olio tiene tutte le sue facoltà. Volendo possiamo... no, no, aspetta un attimo. Ok, così facendo tutti gli aromi rimangono all'interno del sacchetto e ci sarà sicuramente un'esposizione, cioè non c'è una perita di gusto, non c'è una perita di profumo, tutto rimane chiuso nel sacchetto. La stessa procedura di cottura sottovuoto, possiamo usarla per carni bianche, come pollo, coniglio oppure con le verdure. Possiamo perfino utilizzarla per un bollito, sapendo. Ci sono le industrie che fanno certe cose, ci sono per esempio degli chef che fanno delle cotture tipo 6 ore, 7 ore, con una cottura molto bassa e tutto rimane nel sacchetto. Non c'è una perita enorme, non c'è una diluizione di gusti, niente, rimane tutto nel sacchetto. E anche le industrie, le industrie fanno delle cotture a temperatura tipo da 80 a 100 gradi, questo è un altro discorso, questo è per non perdere peso sulla carne o sulle cose. Allora, personalmente ritengo che il migliore uso dell'olio extraverde in cucina sia quello a crudo, per preparare salse, per fare gaspacci, anche per fare la maionese, anche se a volte è un po' troppo forte. Basta diluirla un po', per fare delle salte, potreste diluire la maionese e farne un dressing stupendo, arricchirla, aggrementarla con altre spezie, con altri aromi. Per le insalate e per dressing finali di moltissimi piatti. Per le salse basterà anche un solo cucchiaio di olio per commensale, cosa che rende l'olio extravergine anche interessanti per il food cost. Utilizzare un buon extravergine ci consente di usare meno prodotto, data la sua grande capacità di arricchire salse e piatti. Molte volte mi è stato chiesto cosa sono queste fatture, con questi alti costi per l'olio di oliva. Io ho sempre risposto, se vogliamo dare qualità, dobbiamo usare un buon olio di oliva, non c'è soluzione. Chiaramente, specie nel settore oreica, bisogna trovare il giusto compromesso, usando quindi per le salse e per i piatti più raffinati un olio di buona qualità. E spesso per altre cose si utilizzano oli di qualità inferiore, con risparmi sui costi, per bilanciare un po' le cose. Ma anche con diminuzione sensibile nella qualità finale dei piatti. Vorrei anche soffermarmi su un altro argomento, gli oli aromatizzati. Sono anni che io faccio queste cose. Se voi prendete per esempio una bottiglia d'olio normale, levate un pochino di olio, prendete 5-6 spicchi d'aglio, li schiacciate, li sbucciate, li mettete nella bottiglia e la mettete in frigo. Il giorno dopo tirate fuori quest'olio aromatizzato all'aglio. E potete usarlo su qualsiasi piatto, senza, ripeto, senza friggere l'olio. Cioè voi avete tutti i gusti eccezionali. Avete freddo di usarlo, rimettete in frigo. Il giorno dopo date il bisogno e tirate fuori. Fatevi una pasta olio e aglio con un olio non fritto così. È un'esperienza eccezionale. Un insaporitore per tutti i vari. Per esempio montate una salsa al burro, ci mettete due gocce di quest'olio all'aglio e cambia tutto. Fate un'insata di pasta. È un correttore eccezionale. Questo si può fare anche con altre spezie. Ok, dunque questo si può fare con tutti gli altri. Ma vedo là, sono un po' in ritardo perché ho visto degli oli aromatizzati, sono un po' in ritardo. Ma pensate un po' a cosa ha fatto Ricard con i pastis. ha preso dello sciroppo, alcol e ha aggiunto qualche estratto, qualche goccia di estratto di anice e fanno fatturati estramondiali, vuol dire. Fanno delle cose fantastiche. Pensate voi se poi nel vostro piccolo potreste aggiungere degli estratti ai vostri buoni oli. Pensate un po' che booster potreste dare al vostro fatturato. Voglio concludere questo mio intervento, corto intervento, con alcune interessanti cifre che vi potranno stupire. Sapete quanti milionari ci sono nel mondo? Circa 70 milioni sul pianeta. Ci sono 21.950.000 di milionari negli USA, 5.280.000 milionari in Cina, 3.660.000 milionari in Giappone, 2.950.000 in Germania, 2.490.000 in Inghilterra, 2.470.000 in Francia. Quindi in grosso modo abbiamo circa 70 milionari di dollari sul pianeta. Uno spazio immenso esiste sui mercati per i vostri oli di alta qualità ed è lì che vi aspetta. Voglio aggiungere, dulce sinfone, che nel 2022 ogni 33 ore c'era un miliardario in più sulla terra. Dunque avete molto spazio davanti a voi per i vostri prodotti. Basta solo andare a bussare alle porte di questi 70 milioni di persone. È tutto, grazie. Adesso mandiamo il video che ci ha mandato Pino Cipolla, che purtroppo non può essere qui con noi quest'anno. È dovuto volare in Kenya urgentemente per questioni di famiglia. Se Jacopo ci manda il contributo... Sono Pino Cipolla, vi mando un videomessaggio perché purtroppo non posso essere lì a partecipare a questo bellissimo evento a Monte Carlo che il mio amico Aldo Mazzini organizza tutti gli anni con una passione, una partecipazione incredibile. E sono contento per lui che quest'anno la partecipazione sia ancora maggiore rispetto a quella degli anni precedenti. Tutto ciò premesso, io purtroppo non posso essere fisicamente sabato lì con voi a Monte Carlo, quindi sono molto lontano dall'Italia, quindi vi mando preregistrandolo questo messaggio vocale per darvi anche la mia testimonianza e la mia partecipazione da vecchio oleario, diciamo, alle vicende che ci uniscono, che sono quelle dell'olio. In un anno molto difficile, soprattutto per la pluviometria in Spagna, mi verrebbe da dire, che è quella che determina poi l'andamento dei prezzi in tutto il nostro comparto, e un anno difficile sarà o ancora di più quello della prossima raccolta, anche se, come sapete, in Italia non possiamo lamentarci. Ma i prezzi li fa la Spagna e in Spagna la situazione è ai limiti del drammatico e quindi troveremo sicuramente delle altre problematiche di prezzi nel futuro. Mi viene da scomodare Seneca che diceva che un velista bravo si vede anche quando ha le vele rotte perché deve saper navigare in tutti i mari, in tutti i tempi, in tutti i mari, un timoniere di valore se lo si vede. Quindi noi dovremmo saper navigare anche in questa circostanza, in questi due anni consecutivi difficili. Abbiamo il vento in poppa per certe cose e un vento contrario per altre. Il vento in poppa è legato soprattutto, secondo me, nel mondo occidentale, più esattamente nel mondo ad economia occidentale, al fatto che questo continuo aumento delle persone che hanno problemi di sovrappeso, di obesità e che con tutte le malattie che questa cosa comporta, spinge le persone, ripeto, sotto tutte le latitudini, a curare una dieta migliore di quella che fanno, che è, come sapete, quasi sempre troppo ricca di proteine, di grassi saturi e di zuccheri raffinati, che comportano una serie di problemi, appunto quelli dell'obesità che ho detto, e quindi una serie di malattie ad esse collegate, che vanno dal diabete, l'obesità, i tumori e tutto il resto. Quindi l'olio, come simbolo di un'alimentazione sana, di un'alimentazione che allunga la vita, ecco, diciamo così, e non è mai troppo tardi per cominciare una dieta sana, uno stile di vita sana, anche dopo i 50 anni è dimostrato che allunga la vita. E quindi l'olio ha questo vento in poppa della tendenza salutistica, igienistica che c'è nel mondo e che porta le persone sempre di più a considerarlo come un healthy product da usare sempre di più proprio per sconfiggere tutti i problemi che derivano dall'uso invece alternativo di oli estratti con solventi, eccetera, eccetera. Questo è un po' di vento in poppa. L'altro vento in poppa è il fatto che nel mondo c'è una tendenza ad usare sempre di più l'olio extravergine di oliva, il consumo è crescente, pensate, siamo a 3 milioni e 200 mila tonnellate di consumo, quando io ho cominciato a lavorare si consumavano nel mondo 500 mila tonnellate, adesso siamo a 3 milioni e 200 mila, sì, c'erano anche 2 milioni e mezzo di persone, 2 miliardi e mezzo di persone, adesso ce ne sono 7 e 3, però diciamo c'è una forte tendenza all'aumento dei consumi in tempi normali perlomeno dell'olio extravergine di oliva e all'interno di questa crescita cresce il segmento dell'olio di alta qualità, che anzi direi che cresce in maniera più rigida, è quello che cresce di più proporzionalmente, più la gente si abitua all'olio extravergine, più comincia a capire nella differenza e più slitta, diciamo, ancorandosi a consumi di alta qualità, anche in paesi, come dire, in un certo senso insospettabili. da questo punto di vista mi permetto di aggiungere un piccolo contributo geografico, il consumo è crescente in tutti i paesi del mondo, anche in Zambia per dire, quindi, anzi, parlando della Zambia e quindi parlando dell'Africa, io continuo a dire, vorrei ripetervi qualche numero, diciamo così. Allora, il primo numero che vorrei dire è quanto è grande l'Africa? Vi levo dall'imbarazzo. L'Africa è grande 30 milioni di chilometri quadrati. E sapete quanto è grande l'Europa, l'Europa dei 27? Ve lo dico, è grande 9 milioni di chilometri quadrati. E sapete quanto è grande la Cina, la grande Cina? Beh, la grande Cina è 9 milioni di chilometri quadrati. E sapete quanto è grande l'America, gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti, quelli che hanno tre fusi orari, gli Stati Uniti sono grandi 9 milioni di chilometri quadrati. Quindi l'Africa è grande come tutta l'Europa, tutta la Cina e tutti gli Stati Uniti messi insieme e ne avanza ancora. Questo per dire che alcuni continenti che noi proprio non consideriamo come futuri utilizzatori, futuri target del consumo di olio d'oliva sono invece enormi, immensi, sono dei serbatoi incredibili di consumo una volta accertato e accettato che l'olio è l'health product per eccellenza nel campo dei grassi. Bene, proprio per questa ragione vi ricordo, l'Africa ha una popolazione che raddoppia ogni 25 anni, cioè siamo 1 miliardo e 200 milioni che diventeranno 2 miliardi e 4 nel 2050, la Nigeria che è 250 milioni diventa 500 milioni nel 2050, eccetera, eccetera, eccetera. L'Ist Africa, Kenya, Uganda, Tanzania che sono 180 milioni oggi diventeranno 350 milioni nel 2050 e crescendo la torta una piccola fettina di questa torta che riguarda quelli che i salutisti, quelli che si occupano dei problemi nutrizionali, quelli che sono più attenti, quelli che hanno uno stile di vita occidentale, quelli che vanno a mangiare da McDonald's perché c'è McDonald's dappertutto e l'esportazione più forte è proprio quello dello stile di vita americano con tutti i problemi che consegue. Quindi il primo che entra, si siede sulla sedia per primo per far riflettere certa gente, fargli consumare l'olio proprio come medicina quasi mi verrebbe da dire, bene, il primo che arriva ha sempre un vantaggio strategico che è quello dell'essere il primo, della primogenitura delle idee e delle presenze commerciali. Io non mi stanco di sollecitare gli imprenditori oleari che incontro a dedicare attenzione, massima attenzione, a dei mercati che sono in continua espansione. Se voi pensate che tutto il Sud America, per intenderci, ha un coefficiente di crescita dei consumi dell'olio d'oliva incredibile, il più grande mercato di olio di qualità del mondo dopo gli Stati Uniti è il Brasile, che è 8,5 milioni di chilometri quadrati, tanto per dire che è grande come la Cina, è quasi, penso che come gli Stati Uniti, e consuma 100.000 tonnellate. Sì, è vero, il 65% è in mano ai portoghesi, però l'olio di qualità è racchiuso in quel 6-8% di prodotto italiano, che sono comunque 8.000 tonnellate, un'enormità, che tutti i prodotti migliori, i DOP, le IGP, eccetera, le trovi in Brasile, molto più che in ogni altro paese. e tutti gli altri paesi, pure del Sud America, pur essendo essi stessi produttori, come il Cile, l'Argentina, adesso anche il Perù, nei supermercati trovate l'olio italiano di qualità, che è la Colombia, tanto per dirne una, dove c'è la più grande catena di supermercati del Sud America, che è Exito, con 3.200 supermercati, ha l'olio italiano. Quindi voglio dire, dobbiamo persistere, insistere sulla ricerca della qualità, sulla ricerca di mercati adatti per i nostri prodotti di qualità, senza scoraggiarci, e se andando avanti, sapendo che è una capitalizzazione composta, tutto il tempo che noi dedichiamo a spiegare cos'è l'olio, a fare in modo che la gente in paesi che non sanno neanche come è fatto un albero d'olivo, possano cominciare a consumarlo, tutto questo tempo è una capitalizzazione, ritorna con gli interessi dopo N tempo, sempre più veloce in paesi più economici, più in più, ma di economia occidentale, meno veloce in paesi che sono un po' lontani da noi, come in genere l'Asia, e vedete, non parlo del pianeta Cina perché sarebbe un capitolo a parte, anzi, però ne voglio aggiungere una piccola parentesi per parlare della Cina. Voi sapete, un altro dei venti in poppa che abbiamo, ce lo suggeriscono proprio i cinesi, bene, il 30 anni fa, quando si andava a trovare qualcuno con la famiglia, andare a trovare un parente, un amico, eccetera, si portava in regalo una bottiglia di whisky, una bottiglia di Stocco 84, di brandy, o cose del genere. Adesso l'olio è diventato un prodotto da ricorrenza, un prodotto da regalo, soprattutto l'olio di alta qualità. Ed è funny, è divertente sapere che in Cina l'olio viene consumato solo in quell'occasione, solo come prodotto di alta qualità, solo nelle cassette regalo. Anche in Giappone e anche in Corea uno dei momenti maggiori di consumo dell'olio, almeno a livello di trade, quindi di sell out dal trade, è quello di regalarlo in occasione della stagione dei regali, che sono quello del New Year, del nuovo anno, e sono quello della stagione del Moon Festival, quello di settembre, che tutti i paesi, diciamo, asiatici festeggiano scambiandosi regali con i parenti. Bene, le cassette regalo che contengono olio d'oliva di alta qualità italiano, sono il regalo più diffuso. Io conosco aziende, persone, che organizzano la produzione di centinaia di migliaia di cassette, in cui c'è una bottiglia d'olio di alta qualità, insieme a una confezione di pasta trafilata a bronzo o insieme a un vasetto di pomodori secchi o di cose del genere. Quindi l'olio è diventato anche in quegli paesi, e adesso anche da noi, sempre di più un prodotto da regalo. Quindi, un prodotto di alta qualità basta, come dire, basta. Insomma, è importante vestirlo bene, dargli un abito adeguato, un abito da cerimonia, astucciarlo se serve, ma dargli delle belle etichette, come certamente sono tutte quelle che oggi avete lì sul tavolo, e quelli sono un segmento del regalo che era impensabile fino a qualche decennio fa. Contemporaneamente c'è il nuovo canale del cosiddetto travel retail, cioè dei duty free, dei duty free, degli auto grill, delle occasioni di acquisto che può fare una persona che viaggia, fa si chiamano travel retail, che non sono solo gli auto grill in Italia, ovviamente sono, anzi, sono molto di più quelli di altre realtà in altri paesi, basta pensare agli Stati Uniti per dirne uno, ma anche negli aeroporti, nei duty free, sempre di più la gente si muove, sempre di più ha bisogno di portare regali, c'è il problema dei liquidi, delle cose, eccetera, quindi comprarlo in aeroporto semplifica la vita, hai un carry on che puoi portare, eccetera, quindi una particolare attenzione a questi nuovi segmenti di mercato è importantissimo tenerla, i risultati sono certamente piacevoli, sono certamente sorprendenti e quello che raccomando a tutti, ma cuore umego direbbe un latinista, anche io sono oggetto di questa frase, è di metterci il massimo della passione e della determinazione in tutto quello che facciamo, sapendo che stiamo costruendo mattoncino per mattoncino un futuro all'olio d'oliva, un futuro all'olio d'oliva italiano di alta qualità, lo facciamo soltanto intraprendendo, facendo delle cose che prima non facevamo, pensando a delle soluzioni a cui prima non pensavamo e con questa determinazione, con questa forza di volontà che ha come dire una sprizza, sprigiona energia molto più di una pila e di una centrale atomica è proprio la nostra volontà che determina il successo del nostro operato. Grazie e buon lavoro e buoni lavori e buone premiazioni a tutti. Arrivederci a presto. Grazie. Ringraziamo Pino che si trova in Kenya come vi ho detto e non vi posso chiedere se avete domande perché abbiamo difficoltà a fargli rispondere e passerei ora la parola a Luca Mencaglia che ci parlerà di come si fa un grande olio. Prego Luca il palco 5 minuti grazie grazie sinceramente è un privilegio e un onore parlare davanti a una platea simile sicuramente non sarà semplice visto lo spessore dei personaggi che oggi mi hanno preceduto su questo pulpito però proviamoci possiamo iniziare quindi come intervenire per creare grandi oli già che siete qua quindi che siete tra i finalisti o comunque tra i premiati significa che il livello qualitativo che voi siete in grado di possedere di gestire è particolarmente alto quindi vediamo come magari mettervi qualche curiosità in più qualche punto di riflessione in più più che come indicarvi dell'azione da compiere nel frattempo m'anticipo ringraziando Aldo Mazzini tutto il suo staff perché in questi anni hanno fatto veramente un gran lavoro un gran lavoro non tanto per loro stessi per la loro passione ma per voi produttori per la conoscenza dell'olio e per dare la possibilità a chi partecipa al concorso di avere anche un seguito come avete notato questo è un concorso che non è fine a se stesso fine alla premiazione non tutto si conclude oggi poi Aldo crea degli eventi collaterali una continua pubblicità sui suoi canali e ciò che serve al produttore partecipando ai concorsi oltre a una soddisfazione personale oltre all'aspetto edonistico della competizione è anche avere un riflesso commerciale e come investimento pubblicitario questo vi garantisco che è un ottimo concorso un'ottima vetrina quindi dicevamo cosa dà attenzione questo non è silenzio ma sono in realtà le tre S che sono soldi sesso e salute fateci caso in discorsi in cui c'è una di queste tre parole o uno di questi tre argomenti la nostra attenzione aumenta senza sapere perché ma aumenta ora nell'olio alcuni di questi possono essere immessi sia direttamente che indirettamente sia forzando un po' la mano ma altri termini secondo me possono essere maggiormente rappresentativi per vista dal punto di vista dei produttori che sono la passione e la vocazione perché per avere quel livello di attenzione per avere quel livello di analisi di continua discussione continua curiosità che è fondamentale la curiosità perché altrimenti staremmo ancora senza ruota senza fuoco senza niente quindi la curiosità è quel volano che ci permette di scomporre la problematica di non dire togliamoci dalla mente quella quella frase che spesso ancora sento in alcune aziende abbiamo sempre fatto così è sempre andata bene va bene andare avanti così no il mondo va avanti e anche la storia o le aria ce lo insegna in alcune zone d'Italia o del mondo in cui vent'anni fa trent'anni fa c'era la presunzione di avere il miglior livello qualitativo e in alcune case era anche vero sono rimasti con quella presunzione quelle tecniche e quelle procedure oggi non sono più ai vertici produttivi qualitativi perché si sono seduti purtroppo la qualità è un concetto fortemente dinamico pensate alle vostre automobili molti frantoriani hanno l'automobile più innovativa più moderna con tecnologia più avanzata che il frantorio stesso e l'alzavitra elettrico che oggi è il minimo altrimenti una macchina neanche l'acquista negli anni 80 era un lusso quindi la qualità percepita è in forte evoluzione è un concetto fortemente dinamico non bisogna mai sedersi e mai accontentarsi tra virgolette anche perché come diceva anche Oscar Wilde non preoccupatevi della perfezione perché tanto non la raggiungerete mai il discorso è inseguirla sempre perché è l'unico modo per poter crescere quindi passione e vocazione è fondamentale perché uno deve avere tanto la vocazione a questo mondo che è un mondo comunque sia dal punto di vista della produzione fatto di sacrifici di non guardare l'orologio quando serve di anche attenzione per alcuni particolari se a un frantoriano non piace l'olio è inutile che fa il frantoriano ok e poi la passione perché proprio necessita di di un extra time di un impegno che se non c'è la passione dietro è impossibile affrontarlo non vi ho parlato d'amore per l'orio perché l'amore non può essere rivolto a un oggetto ma solo a un essere umano però la passione e la vocazione secondo me sono termini fondamentali per la produzione di qualsiasi prodotto di qualsiasi bene o servizio però cos'è la qualità perché parliamo di qualità 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 però poi bisogna dargli anche una misura un peso una sostanza ciò che non è misurabile non è confrontabile e non è valutabile la qualità come concetto un ISO 8402 la definisce come la qualità e l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto che conferiscono adesso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite dei consumatori e quindi inducono il consumatore a preferirlo rispetto ad altri prodotti in commercio questa è una bella definizione ma dice tutto e dice niente dice praticamente è quello che il consumatore preferisce perché lo ritiene più attrattivo per se stesso alla fine qualità quale qualità vogliamo perché in base a questa definizione che olio creereste che olio vorreste fare qual è il vostro obiettivo non è facile la risposta perché esistono varie qualità e possiamo parlare io ve ne ho messo alcune ma possiamo sviluppare questo grafico mettendo molte altre voci comunque una qualità chimica sono le anese chimiche anche le varie normative ci impongono dei paletti e all'interno di quei paletti che oggettivamente sono abbastanza larghi possiamo ottenere livelli qualitativi ancora superiori dal punto di vista chimico quindi una qualità di tipo chimico organolettica organolettica questo è un un metro della parte organolettica un concorso giudica degli oli su dei parametri organolettici non vengono utilizzati dei strumenti o dei reagenti chimici semplicemente il laboratorio mobile più complesso che esista al mondo che è il colpo umano colpo umano di alcuni asseggiatori debitamente formati e allenati per poter valutare questa tipologia di prodotto no dove siamo indietro se mi resta sul ok poi nutracerotica è legata in parte anche alla parte chimica sono tutte quelle molecole della frazione insaponificabile parliamo dell'1-2% che sono componenti volatili che ci danno l'olfatto principalmente e poi anche delle componenti quali i biofenoli o dei radiclorofili o dei carotinoli olidi e quant'altro che ci danno il gusto e anche le sensazioni visive considerate che nell'olio nella valutazione tecnica dell'olio la componente visiva non è importante tant'è che il COI che è il consiglio di oligone internazionale indica anche la tipologia del bicchiere da utilizzare e non permette di visualizzare la la componente caromatica del prodotto perché dal giallo al verde è tutto ammesso chiaramente l'olio blu o rosso non è olio extra leggero oliva ma dal giallo al verde è tutto ammesso quindi la parte nutracerotica è l'insieme di quelle molecole che hanno un'azione bioattiva sull'organismo umano per fare un esempio col vino che viene spesso preso in maniera impropria come prodotto di confronto ma a livello commerciale alcuni spunti possiamo prenderne 20 grammi di olio extra leggero oliva con 400 parti per milione di biofenoli o polifenoli che dir si voglia hanno un effetto sulla salute misurabile quindi non teorico ma pratico pari a 60 litri del vino con maggiore residuo secco quindi con maggior numero di biofenoli però sono biofenoli che non hanno la stessa attività biologica sull'organismo umano di quelli dell'olio ora se beviamo 60 litri di vino magari all'inizio la parte edonistica è maggiormente apparante però dopo il 60esimo litro probabilmente abbiamo bisogno del pronto soccorso e in più guardate l'attenzione che poniamo al vino rispetto all'olio l'olio a parte la parte calorica le 9 calorie grammo ha solamente dei benefici sia dal punto di vista edonistico sia organolettico che nutracertico il vino fondamentalmente contiene l'alcol che è una tossina quindi noi felicemente ci avveleniamo ma difficilmente spendiamo per avere dei benefici sia dal punto di vista del piatto quindi creare dei piatti con maggior gusto con maggior appagamento sensoriale che dal punto di vista nutracertico e quindi salutistico il classico esempio che ho sentito mille volte ma è vero se qualsiasi di noi va a cena 40 50 60 100 euro per una bottiglia di vino non esita più di tanto a spenderne diciamo dai 20 ai 50 euro non c'è problema a spenderne però magari 20 euro per una bottiglia che la utilizziamo 15 giorni siamo elti e se mettiamo tutto sul piatto della bilancia va sicuro che il bilancio è fortemente sconveniente etico sociale perché comunque sia l'olivicoltura voi immaginate i paesaggi che abbiamo in Italia Spagna Grecia tutto il mondo dove c'è l'olivicoltura da un appagamento una tranquillità una serenità all'occhio nettamente più alto di qualsiasi altra cultura in più da lavoro e da sostegno perché comunque sia è una fonte calorica questo è indubbio e generalmente gli olivicoltori chi lavorano in olivicoltura ha delle condizioni anche di contatto con i trattamenti anche condizioni di vita un po' meglio rispetto ad altre tipologie di colture e melciologica commerciale melciologica è la categoria melciologica quindi extravergine vergine lampante fondamentalmente e ha imposto la legge e melciologica sono tutte quelle certificazioni in più quindi anche lì le scelte che potete fare le varie certificazioni i vari packaging tutto quello che è a corredo del prodotto stesso per posizionamento sul mercato e quindi avere anche un vantaggio sul prezzo un premio sul prezzo andiamo avanti però l'olio d'oliva quindi definiamo anche cos'è l'olio d'oliva al di là delle definizioni per legge le definizioni comunitarie che risalgono la madre di esse risale al 2001 l'olio d'oliva è il prodotto di una complessa serie di interazioni multiple tra fattori genetici ambientali culturali tecnologici ed umani che influenzano sia la fase di sviluppo e maturazione del frutto sia le stazioni e la conservazione dell'olio quindi vediamo dal titolo iniziale come intervenire quindi l'intervento dell'uomo in questi processi quindi la genetica e la cultivar quindi se dovete fare un oliveto o se avete già un oliveto in possesso in produzione di esaminare quali cultivar sono presenti l'interazione tra le vale cultivar e quale previsione di prodotto vi può dare geneticamente quella cultivar anche perché poi l'olio dovete piazzarlo sul mercato quindi dovete capire anche a quali mercati può essere maggiormente a quali stati quali mercati quali regiografiche può essere maggiormente apprezzato quella tipologia di olio e eventualmente quali tecnologie estrative e di filtrazione di confezionamento utilizzare per meglio collocare quel prodotto la rimatirazione quindi a livello agronomico quando raccogliere le condizioni pedocrimatiche come va la stagione una stagione secca rispetto a una stagione piovosa darà una materia prima da trasformare quindi l'oliva la drupa con delle caratteristiche diverse a parità di genetica le tecniche agronomiche di coltivazione quindi come coltivate e li scegliete va sicuro che è possibile influenzare la qualità del prodotto in base anche alle tecniche di coltivazione le tecniche di raccolta e tempi di stoccaggio questa è una fase anche perché generalmente il fantoglio difficilmente riesce a seguirla bene ma è una fase in cui molta qualità della materia prima si perde sulla raccolta la trasformazione il trasporto che il trasporto è anche un punto che in pochi considerano e anche lo stoccaggio in prefangitura le tecniche operative di estrazione poi le vediamo quindi il fantoglio fondamentalmente tecniche di filtaggio la conservazione dell'olio e poi direi anche il confezionamento comunque dove intervenire intanto sul proprietario i dipendenti e i collaboratori perché se il proprietario non ha le idee chiare è difficile indirizzare immaginiamo l'azienda come una barca se non sa qual è la rotta da seguire diventa un po' un naufragare un'impresa più da ulisse che non da un imprenditore consapevole e anche a livello economico si ripercuote questo i dipendenti devono essere motivati e la motivazione la raggiungiamo con il convolgimento del dipendente quindi dare l'indirizzo ma magari anche coinvolgerlo sentire la sua idea anche perché un brainstorming tra il proprietario i collaboratori interni e esterni e il dipendente può creare sia dei punti di attenzione e di riflessione che magari il proprietario stesso non avrà preso in considerazione ma anche un arricchimento del processo o un'ottimizzazione del processo anche a fini economici finanziari lo li vedo quindi intervenire non li vedo come ho detto prima capendo cosa abbiamo a disposizione sia da livello pedoclimatico pedologico per lo più poi il clima è una variabile che ultimamente è sempre più aleatoria che di genetica e quindi come intervenire a livello di tecniche di gestione del suolo del sovrasuolo di concimazione di trattamenti potature e quant'altro il frantoio lo vedremo il confezionamento e la distribuzione commerciale anche perché un altro punto in cui si perde tanta qualità prodotta è la distribuzione commerciale quindi ah ok i dipendenti abbiamo detto la passione e la vocazione che vi ho spiegato prima gli obiettivi e il budget quindi cosa voglio fare e cosa ho a disposizione sia in termini tecnologici ma anche in termini economici perché non posso andare sulla luna se ho 50 euro in tasca ok la progettazione a medio e lungo termine l'olivo è una cultura che è definita perenne quindi non posso fare una programmazione a due mesi a sei mesi non parliamo di grano parliamo di olivo sia a livello di soprattutto a livello di agronomico poi a livello commerciale anche lì parliamo di tempistiche diverse la formazione tecnica quindi chi lavora sia in campagna che in frantoio che in in ambito commerciale deve essere ben formato ben addestrato istruito su cosa deve fare e su cosa ha sotto mano un commerciale che non sa niente d'olio che va a vendere è vero che sono dei commerciali che vendono dall'acqua al plutonio però se ben conosce il prodotto e ben conosce come utilizzarlo le caratteristiche le interazioni che ha con gli alimenti che si utilizzano ecco qui può essere fatto il paragone col vino il vino può essere tranquillamente bevuto da solo i classici vini da meditazione in particolar modo l'olio a parte pochi pazzi dubito che la maggior parte della popolazione lo consumi al bicchiere ma va sempre in combinazione al piatto va sicuro che l'olio d'oliva quindi che sia extravergine non è mai neutro può esaltare o distruggere un piatto e anche in ristoranti d'alta fascia vedere le materie prime eccezionali delle carni con valore commerciale alto distrutte da un olio palesemente difettato è uno scoraggiamento uno scoraggiamento perché significa che dov'è la preparazione di quello chef dov'è la preparazione del proprietario di quel ristorante la frase che vi ho detto prima l'olio ha delle caratteristiche talmente palesi da risultare celate cioè un olio buono un olio cattivo messo sul piatto qualsiasi persona per sapere la strada gli date un olio con rancido molchia e riscaldo è un olio eccezionale su una tagliata di manzo io immagino poi magari la dottoressa può correggermi che il 99% preferirà l'olio non difettato perché altrimenti va sicuro buttate anche il piatto sulla carne specialmente se l'olio è difettato buttatevi anche il piatto quindi sapere di cosa stiamo parlando di cosa viene proposto un frantoriano un frantoriano che non sa cos'è la via della liposigenasi o come interviene la frangitura i tempi le temperature è meglio che l'oliva neanche la guarda non che la tocchi che neanche la guarda perché altrimenti o è fortunatissimo e crea un prodotto eccezionale oppure distrugge tutto quello che avete fatto durante un anno a differenza di altri prodotti l'olio in tre quarti d'ora un'ora al massimo è pronto quindi in pochissimo tempo determinate il lavoro di un anno quindi rischiate di impiegare è come lo chef che va a prendere la carne a 35-40 euro al chilo e poi la distrugge con l'olio difettato è la stessa roba voi avete una palta agronomica che aveva portato in frantorio in oliva eccezionale e voi con un frantorio sporco una temperatura a 50 gradi e due ore di grammo la distruggete tutto bravi vi darebbe fastidio se uccidessi a voi e quindi è giusto che il personale sia ben preparato su quello che deve operare non uccide nessuno per fortuna questo non è una centrale nucleare è un frantorio però dà fastidio che venga distrutto il lavoro di lavoro e la passione di tanti soggetti coinvolti non parliamo solo del proprietario anche del dipendente perché se create un grande olio anche il trattorista o chi lava il pavimento in frantorio è contento perché al di fuori dell'azienda dice cavoli ho contributo anche io a fare quel prodotto ma se invece create un prodotto indecente ma anche il dipendente che lavora i pagamenti ma chi se ne frega tanto è un prodotto non vale niente lì è sporco ma resta lì vedete il cambiamento di mentalità di chi lavora in frantorio o comunque in azienda e poi questione condivisione collaborazione se riuscite a far squadra sicuramente ma questo in tutti gli ambiti lavorativi in particolar modo vedrete che tutto funziona meglio i complessi enzimatici d'oliva in grado di influenzare la qualità dell'olio ve la faccio corta perché sicuramente già lo sapete ma possiamo parlare principalmente delle idrolasi delle idrolasi alcune sono positive altre sono negative a noi in particolar modo ci interessa la liposigenasi e anche la pectinasi pectinasi perché e le micellulasi perché perché degradano l'olio sapete che è nella drupa contenuta nei vacuoli che sono delle microcellette i vacuoli sono talmente piccoli che per estrazione meccanica vi ricordo e sottolineo che l'olio è ottenuto esclusivamente tramite processi meccanici ed è possibile aggiungere solamente acqua potabile quindi le gocciolini sono talmente piccole che per forza di centrifugazione con le attuali forze di centrifugazione non sarebbe possibile estrarli in più l'olio nei vacuoli è in odore e in sapore perché è in grasso sono gliceridi appunto è quella frazione saponificabile che parliamo 98-99% del tutto olio d'olio quindi le pectinasi le micellulasi degradano queste la membrana dei vacuoli e permettono una fuoriuscita assieme all'azione meccanica dell'olio che poi l'olio si raggruppa in gocce più grandi massa superiore quindi per la stazione centrale riusciamo a separarlo dal resto della massa in più l'olio viene a contatto con l'ossigeno l'acqua e gli enzimi della lipossigenasi in particolar modo che ci danno la possibilità di creare tutto il ventaglio aromatico del prodotto stesso quindi questi bisogna conoscerli secondo me avanti l'oliveto quindi la cultiva l'abbiamo vista il sistema d'allevamento non esiste in tutte le cose non esiste una ricetta standard ma va valutato caso per caso oliveto per oliveto e all'interno dell'oliveto alcune volte esistono anche delle zone perché magari difficilmente abbiamo oliveti con un'unica cultiva o con un'unica altitudine un'unica pendenza un'unica esposizione quindi va valutato caso per caso in maniera analitica e sintetica come intervenire perché non esiste una ricetta standard se io vi do una ricetta standard fate un prodotto standard quel livello medio minimo che qualsiasi qualsiasi riesce a a raggiungere quindi va valutato ogni singolo fatto e ogni realtà fa storia a sé la portatura e la concimazione e la porta vi dico si ricorda a quello la gestione del suolo sopra il suolo e sotto suolo quindi inerbitro lavorato irrigazione dipende la risposta giusta è dipende non esiste un dogma la raccolta i sistemi di trasferimento live qua fateci attenzione perché l'obiettivo esistono tante metodologie di raccolta di trasferimento e di stoccaggio gli obiettivi gli obiettivi sono quello di rovinare il meno possibile la drupa perché già nel momento in cui la drupa viene separata dal picciolo si innescano processi degradativi che degradano anche poi la qualità finale dell'olio le condizioni climatiche incidono più è caldo e umido peggio è quindi degradare il meno possibile l'oliva perché ogni ammaccatura ogni rottura va a abbassare più velocemente il livello qualitativo la pulizia attenzione ai contaminanti quindi trattori abbacchiatori o qualsiasi altro meccanismo componente meccanico che viene a contatto col prodotto sia pulito sia da oli minerali che è una contaminazione che viene fortemente contestata ma anche da altri contaminanti vi riporto un esempio che mi era stato fatto praticamente una volta vanno a assaggiare dell'olio e aveva un profumo fortemente anomalo vennero poi a scoprire che era stata trasportata dell'olive con lo stesso rimolchio con cui trasportavano l'etame l'olio è una spugna formidabile dal punto di vista dell'olio e dei sapori ma anche le olive con la traspirazione possono essere influenzate da agenti esterni quindi pulizia massima pulizia ovunque fate attenzione ma anche i trattamenti che fate i tempi di carenza valutateli soprattutto in fasi siccitose che quindi i tempi di carenza sono realmente quelli fate attenzione fate attenzione ai prodotti ma qui potremmo perdere un giorno e non abbiamo tempo avanti quindi non dico di fare prima parlavano anche del Giappone in Giappone io ho visto raccogliere olive in guanti di cotone bianco oliva per oliva messe nelle cassette subivano sei livelli di preselezione prima di entrare in frantoio appena ho visto avete questi soppazzi il conto economico qua salta dopo un quarto d'ora poi però ho visto la commercializzazione e il prezzo al pubblico e parlavamo di una bottiglia 100 ml 10.000 yen che sono circa 90-92 euro una roba simile e quindi ho capito ho giustificato il processo io non dico ad arrivare a quei livelli però ripeto l'obiettivo è rovinare meno possibile l'oliva e che sia meno contaminata possibile discorso foglie fino al frantoio capisco che soprattutto per chi non ha il frantoio di proprietà è un costo aggiuntivo però o le defogliate mezz'ora prima che le portate al frantoio oppure fino al frantoio vi aiutano ad areare la massa e a ammoltizzare i scontri che le singole drupe hanno tra loro durante il trasporto quindi il discorso foglie valutatelo io le lascerei anche se in frantoio ha un costo di più però comunque sia il frantoio ha tutta la mondatura che va a eliminare i colpi estranei e quindi anche le foglie le cassette scusa posso tornare un attimo indietro cassette sempre cioè i contenitori non necessi l'obiettivo è non avere grandi masse compatte perché grandi masse compatte velocizzano l'inalzamento della temperatura e quindi le fermentazioni problematiche possiamo avere riscaldo avvinato o addirittura muffa quindi volumi decenti all'interno delle cassette e possibilmente areate se riuscite anche a temperatura controllata meglio ancora l'ottimizzazione del flusso del processo la dotazione tecnologica la dotazione umana e la pulizia questi sono i componenti fondamentali a mio avviso all'interno del frantoio la pulizia del frantoio in tutte le sue parti è fondamentale come vi ho detto prima anche l'aria la stessa aria considerate che nel frangitore entra aria ambientale a meno che lo mettete sotto una campagna di vetro esistono anche di tali tipologie ma non ne vedo l'utilità ripeto pulizia di tutte le componenti sia quelle visibili che quelle invisibili è fondamentale fate attenzione perché se avete un frantoio vicino a un allevamento suino lavorate a finestre chiuse che è meglio ok avanti quindi nel frantoio abbiamo la mondatura che è il deramifogliatore la lavatrice che sono dotate anche di asciugatura ho visto frantoio in maniera ecco la curiosità e l'attenzione al particolare qui vi porto un esempio ho visto un frantoio d'altissima qualità in cui l'asciugatura delle olive la effettuava già nel 2010 a livello commerciale i macchinari che fanno l'asciugatura delle olive sono comparsi intorno al 2015 16 quindi e questo l'ha fatta a livello amatoriale nel senso che no frantoio è un frantoio a tutti gli effetti però l'ha fatto in maniera artigianale ecco si è rivolta al fabbro ha creato un sistema per asciugare le olive prima che entravano in frangitura per avere una sgarondatura efficace su tutto quello che era liquido derivante dalla lavatrice seppur la lavatrice ha risciacquo questo vi dico esistono tanti particolari che basta metterci attenzione semplicemente il denocciolatore sta andando in disuso o quantomeno alcuni cultivar può essere una soluzione valida per altre non ne vedo la minima necessità anzi per alcune è un danno nocciola all'interno della mandorla che contiene enzimi ve la faccio semplice meno nobili quindi diciamo eliminiamo il nocciolo eliminato il problema in realtà non è così perché la tecnologia per fortuna è andata avanti le gamole sono state confinate i tempi sono stati razionalizzati le temperature anche quindi considerando che sempre molto semplificando gli enzimi buoni si attivano prima e con le gamole confinate vanno a consumare una delle componenti essenziali abbiamo detto acqua ossigeno e gasso quindi consumano ossigeno e generano anidride carbonica CO2 con la gramola confinata va in autosaturazione quindi nel momento in cui se aggiustiamo bene le temperature anche la velocità dell'aspo quindi di rimescolamento e i tempi nel momento in cui si attivano gli enzimi cattivi non hanno una delle componenti fondamentali che è l'ossigeno per lavorare e quindi riusciamo a gestirli in più il nocciolino degradato fa da drenante alla pasta perché altrimenti la pasta sarebbe il liquido newtoniano alquanto compatto e noi solo grazie a tecniche alle stazioni meccaniche possiamo estrarre l'olio quindi non possiamo usare il solventi la parte drenante del nocciolino a mio avviso ci fa comodo questo in alcune culture in altre culture può avere un senso però anche questo dipende dalla qualità e dalla tipologia di mercato e la tipologia di anche marketing di comunicazione che vogliamo dare perché comunque l'olio di nocciolato come il monoculti o come altre ha una valenza commerciale una calta commerciale da poter spendere frantumatore o frangitore che dirvi si voglia ne esistono di vari modelli varie tecnologie generalmente sono termocondizionati il termocondizionamento d'oliva avviene anche in fase di stoccaggio molti frantori hanno una cella frigo nello stazionamento prima della molitura chiaramente meno tempo passa meglio è considerate comunque sia che la buccia dell'oliva è fortemente isolante a livello termico quindi per avere in delta termico in diminuzione accettabile l'esposizione alla bassa temperatura deve essere alquanto lunga e i processi fermentativi comunque procedono seppur rallentati quindi anche lì va valutata bene caso per caso considerate che a circa 4 gradi l'olio congela quindi anche la temperatura di conservazione dell'oliva non può essere troppo bassa perché se congelate l'oliva poi dopo avrete il difetto del gelato nell'olio oltre a lì comunque sia ci sono anche le lavatrici termocondizionate anche i frangitori termocondizionati la gestione della temperatura è importante sia dal punto di vista legale vi ricordo che l'estratto a freddo è che durante tutto il processo di estazione non devono essere superati i 27 gradi centigradi e accogliendo in ottobre con magari una temperatura esterna anche a 33 35 gradi diventa difficile arrivare in frangitura a 27 gradi per questo alcuni termocondizionano prima l'oliva proprio per rientrare nei parametri normativi ma anche dal punto di vista qualitativo organolettico alcune cultivar gradiscono temperature di estrazione un pochino più alte altre invece nettamente più basse ci sono cultivar che a 19 20 gradi danno il meglio e se le portiamo a 27 possiamo tranquillamente utilizzare l'olio come prodotto base anche se resta extravergine ma abbiamo perso le peculiarità maggiormente apprezzate dal punto di vista organolettico altre cultivar invece a 19 gradi non riescono a esprimere completamente la complessità aromatica invece a temperature più alte hanno una complessità e un ventare aromatico nettamente più apprezzabile quindi come ho detto prima non esiste una ricetta standard dimenticatevela ma ogni anzi ogni partita d'olive ha il suo metodo d'approccio e lì è la bravura di chi opera in frantoio perché va interpretato è come Michelangelo vedeva un blocco di malmo e lo interpretava e ci creava la struttura non è che qualsiasi blocco di malmo faceva quella determinata statua no perché magari per quella statua per quella posizione plastica aveva delle necessità delle nervature quel blocco che magari era eccezionale per fare la pietà non andava bene per fare il Davide quindi ogni partita d'olive deve avere la sua interpretazione frangitore scambiatore termico è un ulteriore condizionamento termico della pasta non tutti li hanno e alcuni funzionano meglio di altri ma comunque anche lì va valutata la necessità anche sul dimensionamento microonde ultrasuoni stanno entrando negli ultimi anni sono 4-5 anni che stanno entrando nei frantori prima a livello sperimentale adesso ne esistono anche dei prodotti commerciali per quel che riguarda le microonde ci sono studi contrastanti anche a livello di salubrità del prodotto finale e fa un'estrazione termomeccanica termica perché comunque le microonde pensate al forno che molti di voi hanno in casa va a agitare le molecole d'acqua e quindi ad alzare la reazione esotermica quindi va a inalzare la temperatura del prodotto e in più l'acqua vaporizzando ha un'azione meccanica di riscaldare e di allargare gli interstizi tra la pasta favorendo la coalescenza dell'olio gli ultrasuoni invece agiscono un'azione meccanica pura in parte anche quella termica perché comunque sia un'energia meccanica genera di conseguenza anche una una risultante termica però è di minore impatto dal punto di vista qualitativo punta più sull'estazione favorisce molto la coalescenza dell'olio quindi la liberazione d'olio che poi di conseguenza aumenta la coalescenza e quindi la resa totale del prodotto ultimamente sembra anche che influisca in parte anche sulla formazione aromatica ma sono studi ancora in corso quindi per il momento non mi sbilancio la gamola la gamola anche questa è una componente che esiste da tanto e alcuni hanno cercato di migliorarla spesso molti frantori la migliorano la personalizzano e complimenti a chi lo fa perché fondamentalmente è un grosso bioreattore possiamo definirlo se ce l'avete in mente che sia verticale o orizzontale è composta da un recipiente con all'interno un aspo che tiene in agitazione la pasta e la via della ripossigenasi che abbiamo visto prima inizia nel frangitore quindi nella liberazione dell'olio e del acquale e il contatto con enzimi acqua e ossigeno e prosegue anche in gamola in più la gamola ha la funzione di favorire la coaliscenza rimescolando la pasta permette l'aggregazione delle gocce d'olio tra loro per creare gocce di massa maggiore e quindi dal punto di vista fisico-meccanico e staribili in più permette la solubilizzazione della parte biofenolica nella parte glicerica quindi nel grasso perché i polifenoli sono idrosolubili fondamentalmente grazie a rimoscolamento grazie a reazione enzimatica parte di essi traslocano nel grasso e quindi poi noi abbiamo il vantaggio sia gustativo amaro e piccante fondamentalmente che è anche salutistico di averli nel prodotto il decanter fondamentalmente esistono due grandi insiemi che è il due fasi o tre fasi quale è il migliore a mio avviso entrambi dipende da cosa vogliamo fare e da quale qualità vogliamo ottenere vanno bene entrambi dipende molto dalla cultiva alcuni amplificano l'amaro e il piccante soprattutto il due fasi e la parte visiva quindi le derivati delle clorofille le tre fasi tendenzialmente è un prodotto più armonico più elegante però dipende molto dalla conduzione dalla tecnologia perché ne esistono di n marche costruttrici n personalizzazioni e da cosa vogliamo se vogliamo anche una qualità ambientale quindi risparmio idrico e la vogliamo utilizzare nei nostri canali di comunicazione magari le due fasi ci dà un vantaggio da quel punto di vista quindi dipende quale qualità vogliamo quale obiettivo vogliamo e che olio vogliamo anche perché l'olio va anche venduto e va venduto nei mercati di riferimento che noi abbiamo come azienda quindi inutile che faccia un olio con 900 partiti del milione di polifenoli e lo vada a vendere in Svezia me lo vende in un farmacia quindi che quantità ne vendo dipende ripeto dipende va fatta un'analisi puntuale sul mercato in cui vogliamo collocare l'olio ancor prima di attivare tutto il sistema cioè bisogna capire dove vogliamo arrivare e poi con quello che abbiamo gestirlo per poter raggiungere l'obiettivo separatore centrico verticale non tutti i sistemi lo installano io personalmente dico che se ben gestito è un male vantaggioso diciamo che l'olio nelle estrazioni dell'olio meno macchine ci sono meglio è perché comunque ogni macchina ha delle criticità sia di pulizia che di tempistiche che di gestioni che di delta termici e di tutto di ossidazioni in particolar modo il separatore centrico verticale genera anche delle ossidiazioni delle microossidiazioni però permette cioè il mosto oleoso quando esce sia che sia in tre fasi che sia in due fasi ha delle mucillaggi in sospensione delle microccelline d'olio in emulsione instabile che danno anche quella velatura al prodotto il separatore centrico verticale ne elimina veramente tante e lo stabilizza velocemente dopodiché la filtrazione secondo me è comunque indispensabile a meno che si crani dei prodotti che commercialmente vanno a stimolare la vista dell'essere umano con una velatura un olio torbido ancora è legato all'idea della genuinità della primizia ma è giusto è un prodotto che è giusto il classico novello che è un nome usurpato dal mondo del vino ma che rende l'idea e non è regolamentato nell'olio a differenza di altri prodotti ma ha una valenza commerciale l'azienda deve guardare anche al bilancio ok quindi fare grandi oli sì ma vedere anche il bilancio non tutti gli oli sono top class io magari non ho mai visto un prodotto che fa tutti gli oli eccezionali buoni di altissima qualità sì ma tutti eccezionali no eccezionali magari riusci da fare 100 quintali su 500 non lo so un 20 30 50% della produzione ma forse anche il 99% ma c'è sempre un per cento che vuoi gli spulchi vuoi l'inizio dell'attività vuoi una partita d'olive che non è eccezionale esisterà quindi comunque sia un prodotto che va se è extravergine perché non cercate di non truffare il consumatore finale vendete ciò che c'è scritto in etichetta in etichetta vi ricordo sempre che è in contatto e viene assumete la responsabilità civile e penale però novello se viene ben commercializzato viene consumato in tempi stretti si evita la formazione di difetti si cerca di evitare che l'olio crei dei difetti in bottiglia perché no c'è una fonte di reddito per l'azienda perché no quindi a meno che se voglia fare un prodotto non filtrato io consiglio di filtrarlo perché stabilizzato ancora di più il prodotto gli date una shelf life ancora più lunga quindi il mondatore dell'olive l'abbiamo vista fate attenzione all'acqua soprattutto la barra di risciacquo l'acqua della lavatrice deve essere pulita è vero che con l'olive dopo 5 quintali di olive si sporca subito però se necessario sostituitela fate attenzione anche alle contaminazioni soprattutto se lavorate biologico e non biologico sembra una cavolata ma l'acqua della lavatrice incide molto sul prodotto finale l'incendiatore l'abbiamo visto qua la pasta chiaramente ha un'ossidazione alta avanti frangitore abbiamo visto tanti modelli ma lì non ci soffermiamo oltre scambiatore avanti 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 ho anticipato praticamente tutto qua vedete esistono tanti modelli anche in depressione esistono anche gramole in depressione erroneamente dicono a vuoto il vuoto sapete che in natura non esiste non gli piace all'universo il vuoto quindi comunque sia in forte depressione però sì e è una tecnologia che deriva dal mondo dell'industria conserviera della frutta per lo più quindi quello che sono gli omogeneizzati le frutta le marmellate e quant'altro lo spunto è stato questo da lì lo scambiatore termico è stato questo dal vino ad esempio quindi anche osservando anche adattando e migliorando le tecnologie ad altri mondi se funzionano perché no l'innovazione di oggi dissero che sarà la tradizione di domani però deve essere un'innovazione valida un'innovazione che non crei danno e pensate anche al passato i sistemi di estrazione il sistema baglioni grande innovazione è stato dimenticato perché non era funzionale è giusto che sia stato dimenticato esistono delle innovazioni che hanno fatto dei danni col tempo speriamo che non accada più quindi scienza e coscienza innanzitutto e poi proviamo sperimentiamo siamo curiosi perché altrimenti spariamo qui il 2 e il 3 fasi il 3 fasi lo riconoscete perché ha due uscite acqua e olio e anzi tre uscite tre fasi sulle fasi di risulta sansa a basso contenuto di umidità acqua e olio invece il 2 fasi a mostoleoso e sansa ad alto contenuto di umidità un attimo sulla precedente guardate la pulizia dell'olio se il decante al vesce in olio eccessivamente torbido eccessivamente sporco va regolato o gli ugelli o la velocità delle trasformazioni o i giri differenziali o quanta dipende dalle varie tecnologie però fate un attimo attenzione e anche se eccessivamente pulito fate attenzione che ci sia un giusto compromesso generalmente separato centrivo verticale la pulizia ma su tutti i punti perché anche una gamma una sporca vi crea problemi un decante sporco vi crea problemi pulizia quando è necessario va smontato qua ho dato due immagini una di un separatore che è al limite cioè va smontato e pulito quando è in quel modo vedete la schiuma scura l'olio velato lì vi farà parecchio fondo va filtrato immediatamente quando è un olio simile invece il secondo è con la stessa macchina però pulita guardate che olio tira fuori e va sicuro che anche a livello organoettico e anche chimico ci sono delle differenze da quei due prodotti lo stoccaggio la creazione del blender quindi esce l'olio lo filtro o non lo filtro a seconda di quello che voglio fare e poi devo decidere in quale cisterna metterlo e lì dovrete essere bravi cioè un corso d'assaggio minimo e poi anche un allenamento nell'assaggio fatelo perché mettere un olio nella cisterna 1 piuttosto che nella cisterna 5 può farvi la differenza dell'otto finale che avrete poi a disposizione per la parte commerciale filtraggio e travasi vanno fatti e scegliete poi quando anche qui non esiste una ricetta dipende anche la tecnica di filtraggio dipende contenitori adeguati pulizia fondamentale generalmente acciaio inox schermati dalla luce perché la fotossidazione è comunque una problematica per l'olio extravergine di oliva la temperatura controllata ricordo che scientificamente la temperatura idonea sono 16 gradi più o meno 2 quindi da 14 a 18 in questo modo allungate la vita del prodotto se riuscite a mantenere questa temperatura l'importante è che non abbia sbalzi poi se invece di 18 sono 19 20 poco cambia e che non sia magari al di sotto dei 10 gradi però comunque sia ripeto se devo darvi una temperatura ecco quindi ci può essere una ricetta se devo darvi una temperatura di riferimento sono 16 gradi atmosfera controllata perché comunque sia lo spazio di testa l'ossigeno è un'altra problematica dell'olio quindi se lo spazio di testa lo rendiamo inerte con un gas che può essere azoto o algon aiutiamo l'olio a meglio conservarsi e la pulizia il contenitore verso il pulito in odore in sapore senza alcun residuo scegliete anche i detergenti giusti perché se lasciano dei residui poi vi contaminano il prodotto e andiamo incontro anche alle frodi che non conviene anche a livello di sanzioni questi sono i vari sistemi di filtraggio ma ripeto in base alla vostra necessità dovete farvi voi in analisi mirata su cosa vi serve per trasferimento mi raccomando tubature talati free perché poi indorana lo bloccano sicuramente materiali totalmente inerti e strumenti che stressano il meno possibile il prodotto mi riferisco in particolare al modo dei vari pompe conservazione l'abbiamo vista confezionamento l'ottimizzazione del flusso del processo e questo vale sia dal punto di vista qualitativo dal punto di vista chimico e organolettico ma anche dal punto di vista economico se io ottimizzo un processo spendo di meno e quindi la marginalità aumenta è normale il segreto di Pulcinella il conto della selva la rotazione tecnologica devo capire quello che posso permettermi cosa ho in azienda e come ottimizzarla per farla meglio funzionare la rotazione umana stessa roba la componente umana è fondamentale perché l'olio da solo non viene la pianta d'olivo fa l'oliva per la riproduzione non gli frega niente l'olio 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 l'ha messo per difendersi con gli antiossidanti perché se considerate i biofenoli che l'hanno l'amaro in particolar modo non sono troppo ben accetti dei mammiferi e il mammifero mangia e perdonatemi il termine ma defeca a breve distanza invece sembra che gli uccelli in particolar modo gli storni non hanno la percezione dell'amaro e quindi riescono a mangiarlo e poi a depositare il seme anche a grandi distanze e quindi la propagazione vincente vantaggiosa l'olivo minimo a 7000 anni non a caso altrimenti sarebbe sparito quindi l'olivo fa l'oliva per la riproduzione non gli frega niente di darci l'olio a noi quindi l'uomo deve intervenire per prendere l'olio quindi l'uomo è fondamentale in tutte le fasi della produzione dell'olio e anche del mantenimento e anche del consumo perché come ho detto prima se metto l'olio sbagliato su un piatto non ho fatto niente di che e la pulizia pulizia fondamentale dappertutto sia per il discorso di contaminazioni se andate a confezionare un prodotto convenzionale e dopodiché andate a confezionare in biologico e c'è la macchinaria di confezionamento sporco le prime bottiglie vengono contaminate se arriva la riproduzione e fa un controllo e trova che quell'olio in etichetta c'è biologico è un contratto voi l'avete scritto e voi ve ne prendete la responsabilità e non lo è andate in tribunale andiamo avanti eventuali blend quindi anche il confezionamento io magari ho la cisterna 1 e la cisterna 5 però mi arriva in ordine dai Stati Uniti che vuole un olio di intermedio tra i due posso fare un blend se sono di stessa categoria commerciale e quindi i blend possono essere fatti all'occorrenza sia in preparazione delle basi diciamo delle cisterne madri e poi in base vi consiglio al mercato di riferimento chiaramente mantenendo una continuità una costanza nel tempo di dargli un prodotto più o meno similare nel tempo altrimenti il cliente non lo compra più possono essere fatti dei blend successivi a condizione che sia la stessa categoria commerciale cioè se io ho una DOP e un extravergine non posso fare un extravergine italiano posso fare un blend e venderlo come DOP ok quindi ho un extravergine e un vergine non posso fare un blend e venderlo come extravergine quella è frode un'altra roba però se ho un extravergine italiano uno leggero e uno intenso e voglio un medio perché non posso blendarli sì quindi i blend l'ottimizzazione del flusso ovunque i macchinari adeguati ovunque i locali adeguati sia il frantorio che il confezionamento se io ho dei profumi anomali degli odori anomali rischio di contaminare il prodotto e quindi di di rovinare quello che ho fatto fino a quel momento il packaging idoneo è l'obiettivo quindi magari schermato magari che non sia una classica bottiglia trasparente a meno che ho necessità visive di marketing e è il metico chiaramente anche la legge interviene il tappo per se venduto a chi fa somministrazione quindi bar ristoranti o quant'altro deve essere con l'antiva bocco e quant'altro comunque questi sono tutti dettagli che già conoscete però fateci attenzione cercate di ottimizzarli al massimo perché anche lì i tappi ne esistono n modelli le bottiglie esistono n modelli e anche i costi sono diversi la pulizia ovunque i blend i blend cosa riserva per i blend tanto uno strumento di misura perché non è che potete prendere a occhio due cisterne le mischiate prima fatevi una parola una parola significativa quindi non due ml ma una parola significativa e a livello organolettico il bicchiere di riferimento è quello là il coil lo ammette o ambra o blu o ultimamente anche rosso poi dipende anche qual è l'obiettivo del blender perché se mi serve un olio che sia aromaticamente di una certa gradazione se lo faccio col bicchierino blu ho perso l'obiettivo sin dall'inizio quindi magari un bicchiere aspergente o un bicchiere bianco per valutare la parte caromatica a parte puramente organolettica per evitare l'influenza psicologica del colore un bicchiere codificato non sarebbe male confezionamento ve l'ho già parlato distribuzione commerciale quindi il packaging dove lo voglio mandare come lo voglio mandare necessita come diceva prima la parte asiatica utilizza l'olio anche molto come regalistica un packaging maggiormente accattivante in quel senso e anche a volte pacchiano però gli orientali piace perché no se invece avete la distribuzione sui tavoli di un ristorante magari in Europa una linea più pulita una linea più elegante non guasta dipende dove va l'importante che sia anche oltre che esteticamente bello ma funzionale alla conservazione del prodotto i metodi di conservazione se riuscite durante tutta la catena fino al consumo a temperatura controllata e al riparo della luce avete fatto tantissimo il metodo di trasporto stessa roba se va via nave su un container sul ponte sotto il sole a 60 gradi per due mesi prendete i giusti accorgimenti i tempi di consegna che io lo consegno stasera o lo consegno tra due mesi cambia e cambiano anche gli accorgimenti che devo prendere per poter effettuare questa consegna e l'istruzione del distributore e il venditore del cliente finale quindi come conservare la bottiglia come utilizzare l'olio perché l'esempio che ho fatto prima prendo un olio intenso lo metto su un prodotto dedicato lo copro e magari quel cliente dice non mi piace la l'assurdità più bella che ho sentito che ancora sento dicono quest'olio è acido l'acidità dell'olio non è percettibile dall'organismo sensorio umano ok solo chimicamente è riscontabile quindi magari possiamo utilizzare altri termini ma sicuramente non acido se voi fate istruzione valorizzate anche il vostro prodotto perché se lo utilizzano correttamente vedete che poi fidelizzate anche il cliente e se riuscite a fidelizzare il cliente su un olio di qualità anche il gusto anche mentalmente è un investimento anche per il futuro sia per voi che per il comparto olio c'è molto campanilismo nel mondo dell'olio molto di più che in altri prodotti non riusciamo a fare il sistema soprattutto in Italia qua siamo a Monaco i francesi ci possono insegnare tanto i spagnoli ancora di più riescono a fare il sistema la nostra forza è la cappellarità sia di coltivazione che di trasformazione ma se non riusciamo a fare il sistema non riusciamo ad avere masse critiche per aggredire il mercato e quindi comunque sia sarà un continuo rincorrere il margine commerciale questa è un'altra cosa su cui riflettere ma è sulla della qualità intrinseca del prodotto quello che ho detto prima chiaramente sullo scaffale sotto le luci anche le luci sono importanti anche la tipologia di luce quando lo proponete al rivenditore la luce del sole rispetto a neon rispetto a led rispetto a lampadina a livello caromatico incide e anche a livello di fotossidazione i scatoloni o il polisterolo chiaramente lì c'è anche un discorso da fare ambientale ma esistono anche delle scatole più isolanti di altre il termocondizionamento una bottiglia lì ho messo un esempio in una bottiglia un vetro satinata quindi ha la bassa trasmittanza termica del vetro quindi un riparo termico e la satinatura che è una schermatura dalla luce e magari un camioncino refrigerato per la consegna refrigerata a una temperatura giusta non la mettete a zero perché altrimenti lo congelate non sarebbe male e niente la cosa fondamentale su tutto è la curiosità documentatevi siate curiosi mettetevi sempre in discussione non pensate così va bene ok così va bene vediamo se possiamo far meglio siate curiosi ricordatevi di essere curiosi io vi ringrazio per l'attenzione mi scuso per essere arrivato lungo ma ripasso la parola ad Aldo grazie grazie Luca bellissimo intervento per quanto mi riguarda e se avete qualche domanda adesso è a Luca fa piacere siamo qua perché abbiamo a pranzo abbiamo detto tra le 12 e 30 e le 13 quindi abbiamo tranquillamente 5, 10, 15 minuti se volete fare qualche domanda se no chiudiamo qua e andiamo a pranzo o sono stato particolarmente bravo e non è possibile oppure sono stato particolarmente incapace e non vi ho fatto capire niente e è possibile va bene allora con permesso prego il signore più di una prego siccome ha detto che siamo in Francia la colorazione nell'etichetta francese la colorazione che viene fatta ultimamente l'olio è stato raffinato non ricordo male l'etichetta rossa sì ci sono al momento è fortemente in discussione la cosa però sì diciamo che come grasso parliamo del 98% dei gliceridi sì è negativa ma purtroppo chi fa le leggi vabbè sì diciamo che potrei dare una risposta poco diplomatica ma io auspico nel buon senso nella curiosità e nella volontà d'approfondimento delle capacità positive che il prodotto ha sull'organismo umano e quindi di capire che l'organismo umano ha bisogno di grasso è un grasso vegetale al di là del grasso è una piccolissima parte rispetto a tutte le proprietà positive che ha ok è brutto il paragone ma quando prendiamo una medicina una qualsiasi medicina tutte le medicine medicina significa veleno se non ricordo male come radice etimologica tutte le medicine hanno delle contraindicazioni però servono per migliorare la nostra qualità della vita come grasso l'olio extravergine d'oliva i benefici che ci dà sono maggiori delle coste negative qualsiasi cosa noi acquistiamo ha una parte negativa che è l'esbolso economico però poi ci dà un vantaggio se noi prendiamo una camicia io voglio questa camicia ok la pago è la parte negativa ho il vantaggio che mi copre il vantaggio che mi dà una percezione di eleganza e quant'altro quindi se metto tutto sulla bilancia gli do un valore una misurazione ora misurare un prodotto esclusivamente perché ha un 98-90% di gliceridi mi sembra limitativo e dispregiativo rispetto alla dignità del prodotto stesso oltre che del produttore che c'è dietro e del mancato servizio che faccio all'umanità privandogli psicologicamente di un vantaggio salutistico non indifferente perché potrebbe farci rispalmiare nell'aspetto sanitario se io prevengo dell'insorgenza di determinate malattie o un vantaggio sanitario quindi anche sociale collettivo che un vantaggio personale perché chiunque di noi vorrebbe stare sempre bene e sempre meglio una frase che ho detto pochi giorni fa e l'avevo detta cento volte quindi chi la sa già sono noioso si parlava della vecchiaia un'anziana al mio paese diceva sempre io punto ad invecchiare il più e il meglio possibile perché l'alternativa è peggio mettiamoci in condizione di invecchiare il più e il meglio possibile che è meglio per tutti anche per lo Stato che spende di meno ci paga le pensioni però ci spende di meno per tanto le pensioni non ci arriviamo per curarci il contrattare perché nella slide dove si parla della qualità c'era un aspetto molto importante che viene preso tutto in considerazione o non tutto magari non siamo del tutto a conoscere ma è un peceo di città quello è il contrattare o mi sbaglio sì esattamente esattamente ma non non solamente quello ma non solamente quello non solamente la parte inutaceutica perché inutaceutica chiaramente fa scalpore perché è una delle esse iniziali che ho messo la salute prodotto che fa bene però anche la parte inutica noi sul piatto se una pietanza la rendiamo più appetibile più piacevole al palato umano e con l'olio è facilissimo farlo se ben scelto è un vantaggio in più che abbiamo se noi siamo felici a tavola siamo felici anche di più quando ci alziamo da tavola se noi mangiamo male non so se vi è mai capitato di andare in un posto al ristorante e dice ho speso poco ma ho mangiato male uno si ricorda perché ha mangiato male oppure uno ha speso una cifra più importante però ha mangiato benissimo uno si ricorda perché ha mangiato benissimo quindi alzarsi felici da tavola è meglio che alzarsi incavolati da tavola anche perché poi ci condiziona almeno mezza giornata quindi ci sono vari aspetti da mettere sulla bilancia e dalla parte sinistra della bilancia io vedo solo è un grasso dalla parte destra vedo tantissima roba quindi mettere rosso solo perché a sinistra c'è una voce mi sembra un po' limitante posso aggiungere una cosa io farei una domanda a chi ha fatto questo semaforo rosso come mai l'EFSA che è l'ente per la salute dell'Unione Europea e la Food and Drug Administration che è l'ente per la salute degli Stati Uniti d'America che è decisamente un ente molto stringente nella valutazione degli alimenti hanno autorizzato due claim salutistici per l'olio extravergine chi mette un semaforo rosso dovrebbe quantomeno farsi questa domanda non dico che sia intorto ma io mi farei la domanda come mai da una parte autorizzano claim salutistici da mettere in etichetta e quindi significa che è dimostrato scientificamente che questo prodotto ha e dà vantaggi o può dare vantaggi alla salute umana e dall'altra qualcuno mi mette il semaforo rosso questa è una domanda interessante credo a cui rispondere altre domande curiosità ok allora grazie a tutti grazie Luca grazie di cuore a tutti i relatori e grazie a voi che siete stati presenti a questa mattinata adesso ci spostiamo al ristorante del nuovo hotel andiamo a fare un light lunch tutti insieme e per le 15 oggi pomeriggio sveliamo i risultati del concorso grazie a tutti